Bagnoro risorge, scrive così un cittadino pubblicando le foto della Santa Messa che l'Arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana ha celebrato all'esterno della pieve di Santa Eugenia al Bagnoro. A una settimana dal disastro che invece l'aveva vista allagata di quasi due metri d'acqua dopo l'alluvione di sabato 27 luglio. In questa foto la pieve è baciata dal sole, tanti fedeli che hanno voluto assistere alla funzione che per molti ha significato appunto una rinascita della Chiesa. La struttura ha subito ingenti danni, moltissime le persone che durante l'emergenza hanno lavorato nel fango per salvare quanti più oggetti possibili. Siamo di qui, la Chiesa è la nostra, è giusto aiutare. I lavori per il ripristino della Chiesa non saranno né brevi né facili, l'acqua ha raggiunto in altezza quasi la metà dell'edificio. L'Arcivescovo ha ricordato l'impegno dei cittadini che hanno appunto lavorato perché la pieve potesse subito essere liberata da detriti e acqua e si è augurato che al più presto possa tornare a nuova vita.